Ben trovati, un nuovo video tutorial firmato FabioAmbrosio.it, stiamo parlando di export, siamo ormai in dirittura di arrivo con il corso introduttivo ad Adobe Premiere Pro. Nelle ultime lezioni abbiamo visto come inserire un'immagine in sovraimpressione quando esportiamo, come inserire un timecode, nella scorsa lezione abbiamo visto come esportare un video con i sottotitoli, quest'oggi parliamo delle opzioni di pubblicazione, ovvero come fare in modo che Premiere, una volta finito di esportare il video, faccia tutto lui, pubblichi direttamente il contenuto online sul nostro social network di fiducia o direttamente su un server FTP. Vediamo come fare, allora innanzitutto nella finestra di export dobbiamo posizionarci sull'ultima tab chiamata appunto pubblicazione, fatto questo vedete abbiamo a disposizione un lungo elenco di applicazioni con cui Premiere può comunicare per pubblicare il nostro video quando ha finito l'esportazione. Ipotizziamo di voler pubblicare il video su Facebook appena il video è stato esportato. Come fare? Apriamo ovviamente, espandiamo la voce Facebook, la abilitiamo, la prima cosa che dobbiamo fare ovviamente è connettere il nostro account, quindi ora io ho un account connesso chiaramente, ma se non avete connesso nessun account qui ci sarà l'opzione connetti, quindi cliccando su questa vocina vi si aprirà la finestra di Facebook, la classica finestra di login, inserite le vostre credenziali e automaticamente Premiere sarà collegato al vostro account Facebook. Successivamente scegliete la pagina su cui volete pubblicare il vostro contenuto, scegliete un titolo e scegliete una descrizione per il vostro contenuto e quando andrete ad esportare il vostro video Facebook verrà popolato con il video che Premiere avrà esportato per voi. C'è una voce, elimina file locale dopo l'esportazione, che fa in modo che il file che avete esportato sul vostro computer al termine dell'esportazione, del caricamento su Facebook, venga automaticamente eliminato. È una possibilità, io magari lo sconsiglio perché è sempre bene avere un backup delle cose che si esportano, ma è a vostra scelta. Dicevo, non solo Facebook, abbiamo la possibilità di collegare Vimeo, c'è anche YouTube, ovviamente se voi scegliete la voce YouTube c'è anche qui la possibilità di connettere il video al vostro account YouTube, potete impostare ovviamente il vostro canale, potete impostare la playlist che volete popolare con il vostro video, potete dare un nome, una descrizione, scegliere un livello di pubblicazione, oppure potete inserire anche ovviamente i vostri tag che caratterizzano il video. Quando avrete esportato il video, il video verrà caricato direttamente su YouTube, anche qui c'è la voce per eliminare il file locale dopo l'esportazione. Infine, ma chiaramente se avete altre esigenze potete espandere e studiare anche le altre applicazioni qui presenti, c'è per esempio Twitter, ma infine quello che voglio mostrarvi è l'FTP, perché questo è molto utile. Se io avessi un server FTP su cui caricare i video, perché il cliente vuole i video caricati direttamente su un server, potete impostare qui i parametri, questi variano a seconda del servizio che state utilizzando, e anche qua, quando il video sarà pronto, verrà caricato automaticamente sull'FTP. Chiaramente potete fare più cose contemporaneamente, potete pubblicare su Facebook, caricare sull'FTP, pubblicare su YouTube, tutto in un colpo solo, fa tutto Premiere. Molto molto comodo, utilizzatelo se ne avete voglia, per il momento mi fermo qui, nei prossimi video tutorial, nel prossimo video tutorial, parleremo di, accenneremo meglio, una panoramica rapida sul media encoder, perché io potrei volere esportare più video in un colpo solo, e magari con caratteristiche differenti tra un video e l'altro. Ecco, in questo è molto utile il media encoder, ma non vi anticipo troppo, parleremo di questo nei prossimi tutorial, per il momento www.fabioambrosi.it, sito dove troverete l'indice con gli argomenti di questo corso introduttivo a Premiere Pro, ci sono gli articoli, c'è anche il corso introduttivo ad After Effects, se ne avete voglia, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere i prossimi tutorial, e c'è la pagina Facebook, ormai chi mi segue lo sa bene, la pagina da cliccare e a cui mettere un bel like è Fabio Ambrosi. Per il momento vi ringrazio, grazie, 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 commentate per domande o per perplessità, ci aggiorniamo al prossimo video tutorial, ciao!